Il premio Sport Tour protagonisti d'impresa 2016 è stato assegnato a Oscar Farinetti, la ceremonia al Fantini Club di Cervia. È stata l'occasione per il creatore di Italy di raccontarne la storia e di parlare del futuro a cominciare da Fico Italy World. Il problema fondamentale è convincere le persone che si può spendere poco di più o forse niente di più mangiando un po' meno e poi di rispettare la terra, rispettare i contadini, rispettare le storie, le tradizioni, perché i prodotti di alta qualità sono anche meglio pagati all'origine dei contadini e quindi alla fine è un anello. Il forte legame tra la terra e la tavola è una delle fondamenta sulle quali Oscar Farinetti ha costruito Italy, il regno dell'eccellenza enogastronomica italiana, che ha conquistato tutto il mondo esportando la cultura del cibo di qualità nelle giuste quantità e per tutti. Le stesse fondamenta sulle quali sta nascendo a Bologna Fico Italy World, il più grande parco tematico dedicato all'agroalimentare, l'occasione per parlare delle origini e delle sfide future è stata la cerimonia di consegna del premio Sport Tour, i protagonisti di impresa 2016, al Fantini Club di Cervia. Fico sarà la rappresentazione vivente, vera, della meraviglia della biodiversità italiana. Sono contento che abbiamo scelto questi territori per farlo, quindi Bologna, che è un po' l'anello che unisce l'Emilia alla Romagna, dove celebreremo la biodiversità con un'installazione in mesa, quasi 100.000 metri quadri tra dentro e fuori. L'obiettivo è quello di far capire che se si parte bene dalla terra si arriva bene nella nostra tavola, quindi faremo vedere anche poi la trasformazione e alla fine ci saranno 40 fabbriche contadine, quindi artigianali che produrranno cibi di alta qualità, 25 ristoranti, 12 aule didattiche, 6 grandi giostre, dove andando in giostre e divertendosi si capirà il rapporto milionario tra l'uomo al fuoco, l'uomo all'agricoltura, l'uomo agli animali, l'uomo al mare. E poi l'obiettivo più importante è portare un milione e mezzo di turisti. Vorremmo fare in maniera che Fico diventi un monumento.